Liu? Adepti? Ma c'è nessuno? Oh oh, mi sa che sono caduto in trappola... Ciao a tutti, tazzesime tazzini caffè, tazzedepti, yeee! Oggi adeptissimi siamo sempre su Roblox E oggi adepti sono da solo perché poverino Yuki gli si è fritto il pc Ma non vi preoccupate prima o poi, quindi prima o poi ovviamente adepti ritornerà con noi Sono rimasto qua, mi hanno rinchiuso quelli della Apple qua dentro Sono su Escape the iPhone, una nuova modalità bellissima di Roblox Che è praticamente una modalità parkour Quindi adepti nulla, io direi, possiamo iniziare Ok, Escape the iPhone, welcome, can you win? Yeah man, ci siamo, attenzione, attenzione Eh? Eh? Ma cosa stanno facendo questi due adepti? Cosa stanno facendo? Oddio! Che figata! C'ha il cappellino! Ah! Ah! Oddio, queste sono in picco, quindi sono su dei microchip adepti Perfetto, quindi Stage 1 completato, no? Fino a qua non dovrebbe essere difficile no adepti Oh! 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 Attenzione! Eh questa è una cavolata! Stage 2! Oh yeah! Attenzione qua, mi sa che iniziano le magagne! Le magagne! Eh! 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 Eh, sii! Oddio ci sono le cose di Angry Birds, sto male Che figliata! Oh, oh, oh Opla, Opla, Opla Opla! No! Ed è ci dobbiamo, oh me lo sono vista brutta, eh, Adepti Oh, oh, guardalo lì, vedo un personaggio Ti raggiungerò E andiamo, un altro stage completato Oh, oh mamma mia mamma mia ci sono alieno sono terzo guardate il primo questo è tipo al 14 quanti stage ci sarà daje 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 che posizione tecnico tattica che manca poco ok quale filo io direi di verde io ho visto quella signorina lì che sta andando sul verde quindi devo stare attento a detti allora quindi abbiamo detto il primo verde come alienozzo io direi blu no quindi l'ultimo sarà il bianco e per forza detti o è un tron game no non credo per forza il bianco quindi abbiamo detto verde bianco e poi mi pare verde perché ho visto la signorina che andava sul verde perfetto mamma mia detti e siamo qua stage 7 ok va bene questo non mi sembra nulla di difficilissimo no adeps cosa ne pensate attenzione l'abbiamo raggiunta attenzione salto dalla morte salto della quaglia e ci siamo guardate la mamma mia che agilità che agilità ti raggiungo però è attenta no l'ultimissimo mamma mia dobbiamo riuscirci assolutamente assolutamente per il bene dell'italia per il bene della patria per il bene dell'idiozia adetti noi siamo tutti insieme tutti carichi più che mai alla usa in bolt tutti di fila denti tutti di fila grandissimi attenzione entriamo nel mondo di candy crush mamma mia questo è difficile porca vacca se è difficile perché sono stralontani le palle le palle le palle avete visto quello come esploso male ok stiamo calmi ali e mantieni la calma parla in terza persona soprattutto e mantiene la calma rigorosamente no vabbè non ce la farò ce la possiamo e ce la dobbiamo fare ok pallina rossa non ti temo perfetto pallina blu perché non mi esce adesso perché perché dobbiamo farlo per l'imperatore palpatina a detti per l'imperatore palpatina che in questo momento chissà dove l'imperatore palpatina aiutami tu imperatore palpatina ti prendi l'imperatore ok fu che culo ok forse no vabbè perché adesso non mi esce più saltare dopo molto dopo esatto così perfetto qua l'ho vista brutta perché sono saltato ed è continuo a saltare continuo a saltare prima marca vacca o ok va benissimo aia rischio rischio va bene va bene va bene giallo adesso è il verde il problema perfetto dai che l'ultimo sì 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 crazy but one shot maybe mamma mia mamma mia che figata che figata questa modalità vabbè questo c'è ho impiegato 7 mila anni con quello di prima e questo invece l'ho fatto subito ok questo anche questo sembra abbastanza complicato piano va bene piano ok o no non andare in obliquo non andare in obliquo personaggino per favorino ci siamo ci siamo non non andare in obliquo non andare in obliquo ok ok dai ancora un passo un passo per l'uomo un passo per l'eglio sia e ci siamo sì cos'è è sempre più difficile mamma mia ok dai allora piano con calma un po' di forza zen ce la faremo ecco perfetto ce la faremo proprio dopo 7 miliardi di anni ma io devo star calmo io mi devo controllare perché bisogna stare calmi nella vita detti no tutti voi lo sapete la teoria di isaac no una mela al giorno toglie gli ozzi e di torno capito detti quindi stiamo calmi usa usa proprio ma perché ma come si salta c'è proprio sul primo è tra l'altro primo quadratino com'è sto coso allora io salto boh o salto troppo prima o dopo non lo so no vabbè non lo so come si faccia allora c'è scusami eh o ci devo andare dritto così ma vaffanculo sto male ha detto sto male oh sto attento aria sto attento ok 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 daie daie mamma mia oddio mi sento male ha detti io ho lost the connection to the game e quindi e quindi e quindi non mi dire che devo riniziarlo da capo non mi dire che devo riniziarlo da capo perché mi sento male mi sento fottutamente male sì esatto yeah yeah devo rifarlo da capo devo rifarlo da capo mamma mia dovrò rifare i megatagli che pacco a dopo questa volta non mi freghi no 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 via che quello sta arrivando quello sta arrivando piano 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 ti giri vedi così no oh ma mi ha cercato un pelo piano 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 ci vuole calma e sa no non l'ho toccato ma non l'ho toccato si vuole calma e sangue freddo ce l'ha fatta quello no ho capito come l'ho toccato prima sono un pirla e sono adesso mi faccio prendere stai calmo alie stai calmo ricordati che ci sono degli adepti che ti vogliono tanto bene che vorrebbero il tuo formaggio poi tutto questo colore sfavillante c'è ti crea anche un problema no alla cornea proprio o alla retina ok qua quindi consiglio degli adepti e mettermi più distante forse troppo no ci sta ma adesso se perdo qua piano piano e ci siamo mamma mia qua qua mi sembra nulla di ma cos'è sta roba a ok se ti prendi e mori vai giù di sotto perfetto a me non penso ci siano problemi su questo adepti mamma mia adesso morirò settimila volte ok 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 sono stage 15 perfetto stage 15 ho visto quello cadere malamente quindi presumo questi siano laser no oh non lo vedo ok va bene dai ok qua non ci dovrebbero essere problemi perfetto perfetto dai dai ce la facciamo adepti e andiamo allora ok 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 va bene questo non dovrebbe essere si walk across the iphone charger to get more fun obstacles quindi praticamente siamo usciti adesso adesso adepti siamo usciti dall'iphone e siamo sul cavo per il cari per ricaricare il telefono quindi via dobbiamo scappare adepti dobbiamo scappare corri corri forrest run forrest for your life ma attento perché potrei cadere pure qua mamma mia quanto cavolo è lungo walking from the river imperatore palpazzone imperatore palpazzone imperatore palpazzone mangia fuori stagione l'imperatore palpazzone salutiamo adepti luca ciao dai che ci siamo dai che ci siamo ok quindi questo era un altro stage per fortuna stage 19 ok ok dai 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 così è ma io posso rischiare ma la facciamma che così si è ma ma mia ok perfetto quindi io non so sarà l'astri come immaginavo tac tac non proviamo nemmeno a provarci perché E andiamo Perfetto Oh che culo No lo sapevo lo sapevo lo sapevo Lo sapevo Imperatore palpazzone Oddio stavo andando Stavo tornando indietro Imperatore palpazzone Ma già fuori stagione Oh E andiamo Adept in altra completed Ok Pensavo di averlo toccato Quello eh No Tacco di punta Tacco di guardia E andiamo Ti ho raggiunto Ti ho raggiunto Allora Stai calma No vabbè No vabbè ma che cos'è Cioè questo è impossibile State fermi Fatemi andare per primo Per favore Allora Ah quello salta Ma no Bisogna andare piano No Cioè quello salta Quindi dici che bisogna saltare Beh mi salta Ah in effetti Ha senso eh Ok 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 però quello è morto Ah mi ha detto Sono concentratissimo Come se non ci fosse un domani No No Vai piano Stai calmo Rimani calmo E concentrato Calmo E concentrato Quello ce l'ha fatta No vabbè Ma che cos'è Ma perché Perché mi ha fatto cadere così Non è giusto No Ok ho capito Ho capito Adetti Devo andare sempre Obliquo per obliquo Cioè Poi Hoppla 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 Adesso 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 sai cosa faccio Io aspetto che lei Adesso Ti faccio vedere io Adesso vediamo se voli via Eh Vola via Ma cosa Ma perché Perché sono volato via io La signorina Uff La signorina lì però Cioè Ok Anche io sono impedito però Almeno cavolo Ci arrivo qua E c'è la signorina Proprio Uff Oddio Adetti Ci mancano due Per la patria E per l'olore Per la patria E per l'onore Adetti Mamma mia ce l'abbia fatta Questo ovviamente È una cagata No Rispetto agli altri Perché mi sembrava Ovviamente No Ti mettono in cosa più difficile Per l'intermedio Poi le cagatine Verso la fine No Perché ti danno Il panco Sto dicendo Non lo so Diciamo così magari che Potete vedere anche voi Meglio Ok Guardate quanto percorsi Abbiamo fatto Tra l'altro E eravamo anche dentro L'iPhone Quindi Un po' di roba Abbiamo fatta Adetti Mamma mia Ovviamente Sempre grazie al vostro potere Al potere di Luke Dell'imperatore Palpatina Non dimentichiamo Che vi salutiamo ancora Ciao Ciao Quanto cacchio È alto Mamma mia Oh 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 Dai Vedo la fine Sì Sì Vedo la fine Vedo la fine Ci siamo Adetti Sì Mamma mia Alien Oats One Grazie Grazie mille E quindi adesso possiamo festeggiare Mi date qualcosina Posso prendere qualcosa Posso prendere You need 50 more Cioè Devo pagare Cioè Per prendere Le cosine Devo pagare Oddio Che amicata Ditemi Fatemi sapere se vi è piaciuto l'episodio E ci sentiamo alla prossima Ciao 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 Oddio Oddio Andiamo verso l'iPhone Adetti Verso l'iPhone E oltre Ciao